Parte Conterranea, il nuovo format ideato e voluto dai comuni dell'areale della DOP quali Cartoceto, Monbaroccio, Coglie al Metauro e Fano e sabato 11 giugno inizia un viaggio alla scoperta delle eccellenze agroalimentari del territorio, olio in primis. Sarà Coglie al Metauro inaugurare i tanti percorsi possibili fra inogastronomia, scienza, storia, spiritualità, natura e arte. Grazie. Conterranea vede l'organizzazione fondamentale delle proloco di Cartoceto, Monbaroccio, Serrungarina, Monte Maggiore al Metauro e Saltara con il patrocinio della regione e il supporto delle main sponsor Osteria del Cardinale. Ad aprire il tour l'11 giugno sarà la Cinquecentesca Villa del Bali, museo della scienza unico nel suo genere. Grazie. 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 Dopo la tappa al Balì, il viaggio di Conterranea porterà a Monbaroccio il 2 luglio nei giardini di Palazzo del Monte per poi chiudersi il 9 luglio a Cartoceto sulla terrazza Belvedere che ospita il Teatro del Trionfo.